Guys ho trovato il book di quando avevo 16-17 anni e facevo un po' la modella Questa era l'agenzia Beatrice che era molto famosa Questo era il composite che lasciavi alle agenzie per i casting Super iconic C'è dai, noi potini cari, Chiara Ferragni era già destinata a successo da giovanissima 16 anni, era una bambolona già stupenda Io vi ricordo i miei 16 anni, avevo i capelli bruciati, una zazzara, proprio bruciati I canzini fluo, cioè è una cosa E invece lei era già strafotogenica Pure se non tirata come quanto è adesso Perché adesso comunque è cambiata, è molto più sofisticata Tutti i parrucchi del mondo, i truccatori Eh sì Sono andati i nostri amici, Chiara, Veronica Ferraro, Manuel e Mameli A proposito dei truccatori e un altro ragazzo Al concerto di Annalisa e si sono veramente scatenati Bene, vi saluto, ciao